Ciao e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi vi voglio presentare le differenze tra la prima maglia del Liverpool in versione player o authentic e la versione fan o replica. Se da lontano non si notano grandi differenze, da vicino si vede come la trama della versione player sia un po' più lavorata, più traspirante, mentre nella versione fan risulta un po' più liscia e, altra differenza, gli stemmi e i logo Nike sono nella versione fan ricamati, mentre nella versione player sono termosaldati. Questo per dare nella versione player un maggiore comfort ai calciatori. Lo sponsor è termosaldato in entrambe le versioni, vedete la differenza della trama. Nel caso della versione player ovviamente si usa la tecnologia Nike DriveFit Advance. Anche nella manica si nota come la versione player sia molto più lavorata. Il collo pressoché è identico, lateralmente c'è questa banda di colore rosso in entrambe le versioni. Con questo colore cangiante la prima maglia del Liverpool di quest'anno è una delle mie preferite. Tra le due versioni, devo dire che secondo me in questo caso la versione player mi piace di più. È più bella, il tessuto, la trama del tessuto rendono molto di più nella versione player. Tra l'altro vi ricordo che all'interno del canale trovate diverse comparazioni e vi invito ad andare a darle vedere per poterle valutare. Per oggi è tutto e speriamo di vederci alla prossima. Prima di lasciarvi, se il video vi è piaciuto, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!